Accelerare il percorso verso gli obiettivi definiti a livello europeo e nazionale, questo lo scopo dell'agenda digitale regionale partecipata del Friuli Venezia Giulia, presentata nei giorni scorsi. L'agenda digitale Friuli Venezia Giulia è un'idea di sviluppo e di innovazione tecnologica dell'ICT regionale che vede insieme la pubblica amministrazione e tutto il partner privato, i portatori di interesse, dalle piccole e medie imprese alla scuola alla sanità, tutti legati in un progetto di declinazione regionale di ciò che prevede l'agenda digitale europea e poi quella italiana. Che cosa significa? Significa preparare questo territorio ad affrontare quella che è considerata una nuova rivoluzione industriale, che in maniera trasversale interessa e abbraccia tutti i campi del sapere, ma anche tutti i campi della vita comune e che cambierà, sta cambiando e cambierà sempre di più il nostro modo di operare. Noi lo guardiamo dal lato della pubblica amministrazione, ma crediamo che sia davvero un'innovazione potente per tutta la comunità regionale. Fondamentale sarà la cosiddetta infrastrutturazione regionale che procede verso la completa realizzazione, come ha spiegato l'assessore Santoro. Manterremo gli obiettivi che ci siamo dati, ovvero quello di sostanzialmente concludere il progetto Hermes per dicembre di quest'anno e rimandare al prossimo anno solo l'allacciamento di 17 comuni. Ricordo che il progetto Hermes raggiunge con fibra ottica tutte le amministrazioni comunali, quindi le sedi dei comuni e le principali strutture pubbliche, oltre che quelle del mondo della sanità. In questo modo abbiamo già iniziato con una prima gara di 100 km e una seconda di 180 km a cedere la fibra eccedente agli operatori privati che poi potranno raggiungere le case. Devo dire che siamo la prima regione insieme alla provincia di Trento ad avere una rete di banda digitale pubblica estesa tutta la regione, che quindi ci permette di raggiungere anche le località più remote.